Saluti a tutti, come sarebbe se Gianni Amane ed Emeto Sdemir recitassero di nuovo in serie televisive separate? Avevamo un sogno. Se questo sogno vi piace e commentate, faremo sentire la nostra voce davanti agli sceneggiatori e questo sogno diventerà realtà. Cancelletto nuove serie tv, amore e avventura. Cancelletto riepilogo episodio 2. Il secondo episodio della serie Love and Adventure parla della crescente vicinanza reciproca di Ken e Aise e delle loro vite sempre più intrecciate. Cancelletto scena 1, innovazioni che iniziano all'alba. L'episodio inizia con Aise che inizia una nuova giornata nella città costiera. Aise cammina lungo la spiaggia alle prime luci del mattino e scatta fotografie per il suo blog. Nel frattempo, Ken osserva Aise mentre beve un caffè sulla terrazza dell'ostello. Sebbene la comunicazione tra loro sia ancora distante, entrambi sono contenti della reciproca presenza. Ken inizia ad ammirare lo stile di vita confortevole e tranquillo di Aise. Cancelletto scena 2, incontro con i cittadini. Ken chiede aiuto ad Aise per saperne di più sul suo progetto ed entrare in contatto con la gente del paese. Aise porta Ken nei punti importanti della città e lo presenta ai cittadini. Durante queste passeggiate, Ken scopre le bellezze naturali del paese e la gentilezza della gente. Sebbene i cittadini pensino che Ken sia un uomo d'affari freddo e serio della grande città, iniziano a vedere il suo lato umano grazie ad Aise. Cancelletto scena 3, collaborazione. Ken e Aise decidono di lavorare insieme per convincere i cittadini del progetto. Mentre Ken condivide i dettagli del progetto con il pubblico, Aise trasmette a Ken le preoccupazioni e i suggerimenti del pubblico sul progetto. In questo processo, la cooperazione tra Ken e Aise si rafforza e aumenta la fiducia reciproca. Mentre i pregiudizi di Aise nei confronti di Ken si stanno gradualmente dissipando, Ken ammira anche l'intelligenza pratica e le capacità di Aise nelle relazioni umane. Cancelletto scena 4, ricordi e passato. La sera Aise e Ken si siedono e chiacchierano in un piccolo caffè nella piazza della città. Ken racconta ad Aise di essere cresciuto in una famiglia maniaca del lavoro e di aver dedicato gran parte della sua vita alla carriera. Aise racconta di essere cresciuta immersa nella natura e di attribuire grande importanza ai valori della famiglia. Entrambi imparano di più sul passato dell'altro e il loro legame si approfondisce. Ken inizia a comprendere la prospettiva di Aise sulla vita e si sente più in pace intorno a lei. Cancelletto scena 5, prima intimità. Una notte partecipano a una festa che si tiene nella piazza della città. Aise convince Ken a unirsi ai balli locali e ballano insieme. In questi momenti la trazione tra loro diventa ancora più evidente. Alla fine del festival, mentre passeggia sulla spiaggia, Ken esprime più chiaramente i suoi sentimenti per Aise. Aise esprime anche i suoi sentimenti nei confronti di Ken. Questo è uno dei primi momenti in cui il rapporto tra i due assume una dimensione più romantica. Cancelletto scena 6, ostacoli imprevisti. Cancelletto scena 7. Partenza e ritorno. Ken incontra Aise per salutare la città. Nonostante la profondità del legame emotivo tra loro, deve adempiere alle esigenze e alle responsabilità del suo lavoro. Aise rispetta la decisione di Ken e lo sostiene. Tuttavia, la separazione di Ken colpisce profondamente Aise. Entrambi sperano che questa separazione sia temporanea e che il loro impegno reciproco continui nonostante questa distanza. Cancelletto scena 8, nuovi inizi. Quando Ken torna a Istanbul, si rende conto dei valori che le esperienze maturate in città hanno aggiunto al suo lavoro e alla sua vita. Inizia a mostrare un atteggiamento più aperto e orientato alle persone negli incontri di lavoro. Aise, daltra parte, continua la sua vita nella città in cui l'ha lasciata, ma sente costantemente il significato e la profondità emotiva che le porta il tempo trascorso con Ken. Entrambi si sforzano di mantenere il loro impegno e i loro sentimenti reciproci. Cancelletto scena 9, decisione inaspettata. Mentre Ken è concentrato sul suo lavoro a Istanbul, una telefonata di Aise lo scuote. Ci sarà un incontro importante in città e Aise vuole che Ken sia presente. Nonostante il suo intenso lavoro, Ken non riesce a spezzare Aise e decide di tornare in città. Questa decisione preannuncia un cambiamento importante nella vita di Ken. Cancelletto scena 10, il grande incontro. Quando Ken torna in città, partecipa all'incontro organizzato da Aise. Durante l'incontro, residenti e funzionari locali discutono del progetto e del futuro della città. Ascoltando le preoccupazioni e le aspettative della gente, Ken, con il sostegno di Aise, fornisce nuovi suggerimenti per realizzare il progetto in un modo che sia sostenibile e soddisfi i bisogni dei cittadini. Questo processo consente a Ken e Aise di comprendere ancora una volta l'importanza di lavorare insieme e sostenersi a vicenda. Cancelletto scena 11, amore e speranza. Dopo l'incontro, Ken e Aise fanno una lunga passeggiata sulla spiaggia. Ken esprime ancora una volta il suo amore per Aise e quanto sia importante nella sua vita. Aise esprime anche i suoi sentimenti per Ken e la sua fiducia in lui. Entrambi promettono che supereranno le difficoltà e le avventure che affronteranno insieme in futuro. Questa scena getta le basi per l'amore tra Ken e Aise e per il futuro che costruiranno insieme. Cancelletto fine del capitolo 2. Il secondo episodio della serie Love and Adventure termina in un punto in cui Ken e Aise esprimono più chiaramente i loro sentimenti reciproci e rimangono saldi di fronte alle difficoltà che dovranno affrontare insieme. Il pubblico attende con impazienza che tipo di viaggio intraprenderanno Ken e Aise in futuro e come si svilupperà il loro amore. L'episodio si chiude con emozione, prefigurando le nuove avventure che i due incontreranno e la vita che costruiranno insieme. L'episodio si chiude con emozione, prefigurando le nuove avventure che i due incontreranno insieme. L'episodio si chiude con emozione, prefigurando le nuove avventure che i due incontreranno insieme. L'episodio si chiude con emozione, prefigurando le nuove avventure che i due incontreranno insieme. L'episodio si chiude con emozione, prefigurando le nuove avventure che i due incontreranno assi. Grazie.